Il Vescovo di Pozzuoli Se lascia vivere Dio nella sua vita Non mettiamo fuori solo con il peccato Dio nella nostra vita Il Tempio di Dio siamo tutti noi E la nostra comunità Certo, noi chiamiamo Chiesa anche la struttura che ci accoglie Ma ciò che dà la Santità a questa struttura Chiesa Siamo noi E l'Assemblea E l'Assemblea di Dio E le celebrazioni che facciamo E la presenza di Gesù In mezzo a noi quando celebriamo l'Eucaristia E la presenza di Gesù nel Tabernacolo Se mancasse nelle nostre Chiese il Tabernacolo Dove conserviamo l'Ostia Santa Sarebbe come una casa deserta Prima della benedizione finale Il parroco Don Giuliano Poloni Ha ringraziato le contrade e le associazioni presenti a questo momento di preghiera Ringrazio anche le altre associazioni presenti a questo momento di preghiera La contrada di Dio, Barrocchia Santissimi, Pietro e Paolo A fine celebrazione I giovani della Polisportiva FC Scuola Team IV Oratorio San Castrese Hanno avuto l'onore di essere premiati direttamente dal Vescovo Un sentito riconoscimento per il loro buon operato calcistico in ora fatto Una bella foto di gruppo ha poi concluso la serata